il dottor lombardo è qui è qui davanti presidente è un partito clave para vosotros è un partito clave Viva Nápoles! Viva Nápoles! Viva Nápoles! Forza Nápoles! Forza Nápoles! Forza Nápoles! Se tendrì che fare un plan di teleco! No per la posta di tutti i nostri spettatori quando arriva... ... ... ... ... ... ... ... Viva Nápoles! ... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti.